amici di breccemi ancora oggi abbiamo un annuncio importante da farvi per la prima volta da quando siamo online abbiamo deciso di mettere in vendita delle bistecche che sono bistecche speciali e ora vi dico perché ma prima devo farvi una premessa l'ultimo video che abbiamo girato riguardava l'assaggio di una bistecca frollata un anno d'accordo la bistecca frollata un anno è stata un'esperienza estrema difficilmente ripetibile ci volevamo togliere lo sfizio molti di voi invece ci hanno chiesto dove è possibile acquistare delle bistecche frollate vuoi perché nel proprio paese nella propria città non si riescono a trovare vuoi perché si ha poco tempo o perché il macellaio di fiducia magari non tratta bistecche frollate oltre un certo standard da qui la nostra idea in accordo con un'azienda spettacolare molto bella che si trova in provincia di grosseto e che alleva delle maremmane quasi allo stato brado in dei paddock molto belli noi ci siamo stati e nulla da dire 10 e l'odio a questa azienda abbiamo deciso di selezionare 60 bistecche un numero limitatissimo noi non facciamo questo di mestiere non vendiamo la carne di mestiere ci siamo affidati a dei professionisti però abbiamo voluto vedere una per una queste 60 bistecche che hanno avuto un periodo di frollatura di 40 giorni significa che per 40 giorni sono state all'interno di speciali celle frigo allora 40 giorni di frollatura a nostro avviso è lo step per iniziare questo percorso gastronomico molto interessante sicuramente è diverso da frollare la bistecca un anno come nell'ultimo video sono tagli particolari da 600 grammi non sono né troppo grassi né troppo magri abbiamo deciso di fare una di scegliere una via di mezzo come si fa per acquistarlo molto semplice troverete un link a margine di questo video se state su youtube sul commento del video di youtube se state su facebook nel post dove è possibile cliccando acquistare le bistecche allora non vi preoccupate le bistecche arrivano a casa vostra in delle scatole di polistirolo sigillate con all'interno del ghiaccio che permette del ghiaccio speciale ovviamente che permette di mantenere intatta la catena del freddo quindi non vi preoccupate le bistecche arrivano in perfetto stato di conservazione mantenendo inalterate il loro gusto e le loro proprietà organolettiche a questo punto se vi fidate di noi se in questi anni che sono diciamo che abbiamo speso nel raccontarvi tutto il mondo carnivoro abbiamo ottenuto la vostra fiducia e volete assaggiare queste bistecche provateci e fateci sapere come sono noi su questa avventura non guadagniamo un euro ci siamo esposti abbiamo speso del tempo per selezionare queste 60 bistecche perché siamo stati invasi da tantissime richieste tantissime curiosità allora ci sentivamo in dovere visto che siete in tantissimi a seguirci a provare a soddisfare questa vostra curiosità vediamole da vicino queste bistecche magari ne cuciniamo una assaggiamo e vediamo come sono ecco la bistecca 600 grammi maremmana nata vissuta e macellata in maremma in provincia di grosseto ce l'andiamo a grigliare le bistecche vi arriveranno in questo elegante skin ci sarà ovviamente il nostro saluto frollate per te da braciami ancora hanno avuto 40 giorni di frollatura e a nostro avviso è lo step per iniziare questo percorso alla scoperta della carne frollata e allora eccola la prima bistecca targata braciami ancora maremmana nata allevata e macellata in maremma frullata 40 giorni tenera succosa con tutto il sapore della maremma toscana penso che abbiamo fatto davvero un'ottima selezione amici di braciami ancora fateci sapere come sono queste bistecche ok un abbraccio buon appetito e che l'abbraccio sia con voi ciao ciao